Con noi per riportare al centro della politica la politica stessa e non l'appartenenza, per contribuire a portare avanti un metodo che da oltre 50 anni conquista diritti e libertà per tutti i cittadini. Abbiamo difeso i vostri e i nostri corpi, la vostra e la nostra capacità di autodeterminarci, in mille battaglie, tante delle quali già vinte ma tante da combattere e vincere insieme. Però per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché noi radicali non ci saremo per sempre, ci saremo fino a quando ci saranno persone che ci daranno la forza, il coraggio, le idee e le risorse per andare avanti, combattere e conquistare nuovi diritti e nuove libertà e tutelare le libertà e i diritti che abbiamo già acquisito. Iscrivetevi per questo a Radicali Italiani. Iscrivetevi per questo a Radicali Italiani.